Sono 51 i nuovi contagi da Covid in provincia di Prato, su un totale di 392 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Purtroppo è pratese anche una delle 11 vittime segnalate nel bollettino quotidiano della regione. Si tratta di un 74enne di Montemurlo, deceduto al Santo Stefano. I morti totali nell'area pratese salgono così a 574. Tornando ai contagi, questi sono leggermente inferiori a ieri quando erano stati 56 e continua a scendere l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti, che oggi è di 135 casi. Un segnale incoraggiante nel trend della pandemia arriva dal conteggio dei contagi settimanali in provincia di Prato. Da venerdì scorso a oggi sono stati in totale 346, contro 505 della settimana precedente e 553 di quella ancora prima. Venendo alla situazione delle strutture ospedaliere, a Prato ci sono 72 pazienti Covid nell'area medica del Santo Stefano e 13 in terapia intensiva. Occupati poi 40 posti letto alla Melagrana e 21 al centro Pegaso, mentre non ci sono più pazienti Covid nella palazzina del vecchio ospedale.